Un onore ed un motivo d'orgoglio per tutta l'Italia sportiva. Spesso lo sport ha unito, anche se a volte purtroppo continua a dividere. In questo momento unisce. E proprio poche ore prima della partenza della nostra nazionale per l'Inghilterra, Ruzza è stato raggiunto da una telefonata del numero 1 della FIGC, Gabriele Gravina, il quale lo ha informato che mercoledì 7 settembre la nazionale Ander 21 sarà in Veneto. Gli azzurrini disputeranno allo Stadio Romeo-Menti di Vicenza una gara ufficiale, valida per le qualificazioni dei campionati europei di categoria contro il Montenegro alle 17.30. Ruzza, che per emozione fatica sempre più ad assistere alle finali, torna alla grande sfida di domani sera e non dimentica un incitamento anche al tennis. Lo dice uno che sempre di più soffre e non sopporta assistere a finali, perché non sopporta più vedere piangere chi perde a fronte di chi ride e canta per aver vinto e chi gioisce per aver vinto. Non ce la faccio più, domani farò una cessione, è ovvio. E quindi dirò con forza, forza Berrettini e forza Italia. Intanto però il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, è stato bersagliato sui social da raffiche di insulti per aver confermato il divieto a installare megaschermi per la finale, visti anche gli assembramenti nelle piazze dei tifosi durante la semifinale contro la Spagna. Prima di tutto, ha detto Zoggia, per me vengono la salute e la sicurezza dei miei concittadini. Ma le polemiche non si sono affatto placate.